Salve a tutti e benvenuti a questa puntata di Obiettivo Valsese Vercelli. Siamo ospiti oggi del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Vercelli e con noi il Tenente Colonnello, Paolo De Grassi che è il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale. Buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito. Noi oggi ci siamo rivolti al Colonnello per fare il punto della situazione sulla sicurezza che poi è una delle istanze principali dei cittadini. Tutti vogliamo sapere qual è il polso della situazione sulla sicurezza nel territorio in cui viviamo. La provincia di Vercelli, possiamo definire una provincia sicura, tranquilla, ci sono criticità? Com'è? È una provincia sicuramente non particolarmente problematica, però naturalmente la sicurezza ciascuno di noi la vorrebbe garantita sempre al massimo e noi siamo qui per cercare sempre di migliorare da questo punto di vista. Grossi problemi di criminalità fortunatamente non si sono evidenziati nel corso del 2023, però è sempre bene tenere alta l'attenzione. E voi avete diramato proprio nelle ultime settimane dei resoconti un po' rispetto a quello che è stata l'attività nel corso del 2023. Una parola, insomma, si evidenzia molto è quella prevenzione. Quindi un grande lavoro vostro sul fronte della prevenzione, con un'intensificazione della presenza sul territorio. Assolutamente sì, beh è inutile ripetere che prevenire meglio che curare, questo lo sono tutti. Assolutamente in tutti i campi. Ma la prevenzione comunque dà sempre sul medio e lungo periodo dei risultati che si notano. Noi abbiamo cercato nel corso dell'ultimo anno, ma non solo, anche partendo da più lontano, di effettuare prevenzione in particolare verso determinate fasce della popolazione, che sono quelle più deboli. A partire dagli anziani, che purtroppo sono nel mirino dei malfattori, per ragioni anche culturali, e per i giovani che sono il nostro futuro. I giovani, si sa, sono esuberanti, però la cultura della legalità va insegnata fin da piccoli, perché se non si comincia da piccoli, poi riprendere il filo di un discorso mai iniziato è sempre più complesso. Ecco, è bellissimo quindi questa vostra presenza per quanto riguarda gli anziani nei luoghi più frequentati dagli anziani e nei momenti clou, come le giornate in cui viene consegnata la pensione, giusto? Nei pressi degli uffici postali dove viene consegnata la pensione, anche se comunque fortunatamente negli ultimi anni anche molti anziani stanno offrendo dei sistemi alternativi, l'accredito diretto sul conto. Le parrocchie, i centri anziani, i luoghi comunque di aggregazione, che poi paese per paese possono essere il bar, possono essere la piazza, e cerchiamo di farci vedere, di cogliere quelle che sono le loro preoccupazioni e le loro problematiche. E la stessa cosa nei confronti dei ragazzi, c'è questa presenza nelle scuole che serve anche per creare questa importante fiducia che tutti dobbiamo avere nei confronti delle forze dell'ordine e dei carabinieri, che sono il primo contatto che si può avere nel momento in cui si ha una difficoltà. Veniamo alle zone della nostra provincia, Vercelli città. Allora abbiamo sentito un po' di problemi, movida, furti, eccetera. Come è il quadro? Vercelli è una città non molto grande che presenta i classici problemi delle città medio-piccole, quindi sì, problemi di convivenza fra persone che vogliono divertirsi e persone che vogliono dormire, soprattutto d'estate. I problemi di furti, il furto, ahimè, una volta lo chiamavano il principe dei reati, e lo è tuttora. Quindi nelle città sono fenomeni che capitano. Ci sono alcune aree della città un po' più critiche? No, 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 è piuttosto omogeneo il problema. Però io vorrei sottolineare una cosa proprio a proposito dei furti. Fanno scalpore, perché a nessuno piace tornare a casa e trovarsi derubati e non solo, anche colpiti nell'intimità. Ne ha proprio intimità, sì, perché nel luogo più sicuro per ognuno di noi dovrebbe essere la casa. Però teniamo conto di una cosa, per dare un quadro in provincia di Vercelli, in tutta la provincia, vengono perpetrati mediamente quattro furti al giorno, che sono decisamente un livello fortunatamente molto basso, molto basso. E quindi insomma questo è già un elemento che ci rassicura molto. Ma chiedo scusa, questo senza voler minimizzare nulla? No, 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 però è bene che si conosca la realtà della situazione, perché a volte c'è una percezione che è creata magari da chiacchiere, da insomma anche uno stato d'animo particolare, come diceva giustamente lei, il fatto che un furto vada a ledere la nostra sicurezza proprio nel luogo in cui ci dovremmo sentire più tranquilli. E quindi è bene sapere, quindi quattro furti su tutto il territorio provinciale non sono qualcosa che insomma sia eccessivamente preoccupante per quanto si debba stare allerta. Altra città che proprio in questi giorni insomma è arrivata alla tensione delle cronache, che è Gattinara, c'è stata una petizione di un numero abbastanza consistente dei cittadini che portano all'attenzione il fatto che in città ci siano vandalismi, ci siano insomma situazioni e comportamenti che preoccupano. Gattinara è forse il centro più festaiolo, dove c'è una presenza di gente che viene non solo del paese, ma vengono anche da fuori, vengono a farci la passeggiata e ahimè bevono a volte e quindi succedono questi problemi, qualche rissa, qualche danneggiamento, non c'è dubbio. Poi forse a Gattinara ha fatto un certo scalpore la questione del Bancomat che è stato fatto saltare, esplodere. Sicuramente, però seppure Gattinara dispone di una stazione carabinieri di primo livello, sono molto numerosi i militari presenti a Gattinara, però insomma la situazione è in linea con i luoghi. Quindi voi non prevedete a seguito di questo appello di aumentare la presenza di militari o i controlli, eccetera? Cercheremo di rimodulare il sistema di prevenzione che però, ripeto, sta dando dei risultati che secondo noi non sono negativi. Benissimo. Scendiamo a Santià, altro centro importante per la provincia di Vercelli, c'è una stazione molto frequentata, eccetera. Il punto com'è? Ma Santià e, se posso aggiungerci, Crescentino, sono i luoghi forse un pochino più sulla cresta dell'onda ultimamente, anche a Santià è stato fatto saltare un Bancomat tempo fa. C'è qualche influsso probabilmente maggiore da parte di personaggi che arrivano in trasferta dalla provincia di Torino. La vicinanza territoriale. C'è l'autostrada, fra l'altro, e quindi c'è un'attenzione particolare, insomma, fermo restando che rimaniamo sempre nell'ambito di una sicurezza percepita che è inferiore alla sicurezza reale. Arriviamo, e questo è un dato che dobbiamo sempre tenere molto ben presente. Andiamo su, di nuovo in Balsese, arriviamo a Borgossese, a sede di una compagnia di carabinieri molto attiva. Sembra una città tranquilla? Assolutamente sì. Borgossese ha problematiche che sono, intendo la compagnia di Borgossese, che sono leggermente diverse da quelle della città. Abbiamo zone della compagnia, e mi riferisco a quelle verso Aeronord, che si popolano improvvisamente di turisti. Nei periodi meno importanti dal punto di vista del turismo abbiamo proprio... Calma piatta. Calma piatta. Però, ecco, dire che in Balsese ci siano problemi di sicurezza pubblica, adesso sinceramente, mi sembra oltre le righe. Senta, la Balsese ci dà però il là su un argomento che voi avete seguito molto durante quest'anno, ed è quello dei maltrattamenti all'interno delle famiglie e della violenza di genere. Questo perché? Perché in Balsese, dal resoconto che voi avete diramato, risulta che nel 2023 si è passati da una ventina di casi denunciati a 34. Sì. Non esattamente al doppio, ma comunque quasi. Questo è un fronte che poi anche su Vercelli vi ha dato molto, molto lavoro. Sì, è il nuovo fronte della sicurezza, che io direi fortunatamente è così, nel senso che chi, fino a qualche anno fa, subiva in silenzio e continuava a subire, magari per anni, addirittura a volte per decenni, adesso denuncia. Adesso denuncia e quindi i casi escono e vengono presi dei provvedimenti che sono quelli previsti dal cosiddetto Codice Rosso, che è questa normativa che prevede una tutela particolare per le vittime. Certo. Appunto, su questo resoconto che voi avete diramato, leggiamo che in Balsesia sono state arrestate ben otto persone, proprio per questo tipo di reati e lo stesso nel Vercellese ci sono state, ci sono stati diversi interventi. Ma io sono convinto che continueranno ancora per qualche tempo ad aumentare questi casi, perché ci sarà sempre più gente che... Sarà disposta a denunciare, e questo è molto, molto importante, lo ripetiamo in tutte le occasioni, quindi denunciate, non abbiate paura, ci sono i carabinieri, ma c'è tutta una rete, c'è la RAV, la rete antiviolenza, che è costituita da diversi soggetti, i carabinieri, le istituzioni, associazioni, eccetera, quindi le donne non sono più sole, non devono assolutamente più avere paura di... Non sono, c'è anche qualche uomo, eh? Ci sono anche uomini vittime di violenza. Ah, ecco, questo allora... Pochi, ma ci sono. Bene, allora, quindi tutte le persone, a prescindere dal genere che si ritengano vittime di violenza, devono trovare il coraggio di denunciare, di farsi aiutare. E quello che vorrei sottolineare, seppure i casi sono ovviamente minoritari, non sempre si tratta di coniugi o conviventi o persone che hanno un rapporto interpersonale stabile. C'è la violenza nei confronti del vicino di casa, eh, per esempio, o nei confronti di un lontano parente, perché chissà per quanti motivi anni fa hanno litigato. Quindi è un fenomeno che deve essere visto nella sua ampiezza, ecco, non ristretto a quello che è il fenomeno interno alle famiglie. Benissimo. Allora, quindi tutto ciò che è violenza è inaccettabile, va denunciato e correttamente perseguito. Abbiamo poi il tema delle frodi, che siamo di corsa, mi segnalano che siamo in fine... Però le frodi anche quello. Le truffe. Le truffe. Assolutamente. Fenomeno in netta crescita. Gli anziani bisogna sensibilizzarli sempre. Noi facciamo quello che possiamo per renderli partecipi di questa, purtroppo, chiamiamola tranquillamente emergenza. Ma chi deve sensibilizzarli? Sono le famiglie, sono i congiunti, i figli, i parenti. Direi, attenzione, quando ti chiamano per qualche motivo strano, non aderire subito a richieste che oggettivamente a volte sono incredibili. Quindi attenzione su questo fronte. E poi c'è il tema della droga. Com'è? È un tema costante, purtroppo. Sono stati sequestrati parecchi chili di droga. Gli utilizzatori avete... Ma ormai l'identikit parte da giovanissimi, purtroppo, e va fino a... È aumentato nuovamente, perché c'era stato un periodo in cui sembrava che questo fenomeno si fosse un pochettino... Ma forse è stato un periodo in cui se ne parlava di meno. Ma il fenomeno purtroppo c'è, ma guardate, è un fenomeno che non è solo di polizia, anzi, è un fenomeno sociale. Se non si affronta da quel punto di vista non se ne verrà mai a capo. Quindi attenzione anche in questo caso, nelle scuole, i luoghi di divertimento e tutte queste cose. Poi, insomma, una cosa che avete segnalato è anche quella della vostra presenza, la presenza dei carabinieri sulle piste da sci. Certo. È anche questo. I carabinieri del soccorso al cibo. È una tradizione. Noi ci siamo sulle piste e si effettuano i controlli. Fra l'altro, da alcuni anni a questa parte, anche andare a sciare prevede il rispetto di determinate normative, non bisogna bere prima di mettersi sugli sci. Come guidare. Come guidare. Benissimo. I risultati ci sono, perché oggettivamente gli incidenti non sono tanti sulle piste. E quindi, questa presenza, poi la settimana prossima seguiteci perché ci saranno anche i finanziari del soccorso alpino che ci racconteranno un po' come lavorano loro. Per il 2024, tenente Golonnello, cosa ci aspetta? Un anno tranquillo, attenzione? Chi lo sa, la sfera di cristallo non ce l'abbiamo. Però su Vercelli ci possiamo affidare. Noi continuiamo così. I risultati finora ci sono stati e si ritiene che potrebbero esserci anche in futuro. Speriamo di riuscire a migliorare. Benissimo. Allora, la cosa importantissima che ci ha detto il tenente colonnello Paolo De Grazzi è che a volte abbiamo una percezione di una gravità della situazione superiore a quella che è la realtà. Quindi, stiamo abbastanza tranquilli in provincia di Vercelli. Va bene? Allora, grazie al nostro ospite, alla sua disponibilità e gentilezza. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, come sempre, all'appuntamento la prossima settimana con Obiettivo Valsese a Vercelli. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.